ari eccoci ari eccoci ari eccoci eccoci qua ma tu ti sei fermato no sto aspettando a te di che cosa tu hai finito sì e questa pizza chi se la mangia? nicolas non ne vuoi più che significa non parla ormai nicolas io non lo sento parlare da due giorni adesso l'uso della parola è diventato veramente un sordo muto vomitando ha vomitato anche l'uso della parola ma veramente un sordo muto come mai nicolas ha fumicato è perché stai impiascato esatto si è riempito sbu f ma come f no ma forse dice f f per nicolas la sbronza la vostra presenza gli fa male ho una colpa nostra capito io non ce l'ho neanche ma scusate nicolas è adulto e vaccinato adulto e vaccinato anche per il covid esatto quindi l'ho rivaccinato se non riesce a regolarsi lui è difficile ieri ho festeggiato con i miei amici e mi hanno regalato un tappetino del mouse con rem e le sue poppe preponderanti è da questo che si riconoscono i veri amici è vero tieniteli stretti non è per il mouse è per il pipino hanno detto proprio ci poggia il cazzo non lo so non ho capito di che cosa stia parlando i tappetini per il mouse con i cuscinetti che riproducono delle forme tu non hai mai pensato di chiuderli come hai fatto appena adesso con la pizza arrotolarlo non metterci il cazzo dentro perché no? no non ci ho pensato perché non lo possiedo non possiedi il cazzo? il tappetino ah ok non l'avevo capito scusa è una domanda è una domanda scusa che cuscinetti è un po' spio domanda a niente non lo so ma scusa ma ti pare che non ho il cazzo che ne so tu che me lo tocco ogni due secondi e poi sei una protesi è una protesi ma che ne so tu che dico stasera Nicolas ha un sacco di battute che potrebbe tagliare apriamo una raccolta a fondi per comprare un pipo? serve? no non mi serve ok che ne pensi del manga di super che Goku si ricorda della famiglia? tu l'hai capito? no ancora allora faccio una cosa però ogni anno fa c'è già so perché me ne hanno parlato il live giustamente è un fatto già vecchio fatto già rubato va vecchissimo vecchissimo cioè c'è veramente di qualche anno fa infatti quando me l'hanno detto ogni volta che non avevo letto ancora il capito pensavo stessi parlando di questo non avevo colto poi è successo veramente anche nel manga ho detto mamma veramente capito? c'è quello già era una già era una shonen jumpata è diventato ancora più shonen jumpata veramente tremendo tremendo ormai che rubano dalle fanfiction è proprio assurdo è proprio una cosa assurda queste questa roba ma così è proprio uguale cioè è proprio uguale a questo solo che lo fa con le cose di Dragon Ball Minus ok ragazzi chi ha letto l'ultimo capitolo di Dragon Ball Super lo sa dai ma si può mettere a rubare Dragon Ball After? cioè ti puoi mettere a rubare i dojinshi degli altri manco più le tue brava finché ha rubato dalle sue tutto a posto ora ruba dagli altri cioè dagli altri io tu alla fine ruberà anche quella che fischio da piccolo andrà in giro a rubare tutte le dojinshi che puoi rubare peccato che la mia non è completamente pubblicato online wow dovresti 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 dovrei pubblicarlo online tanto dici tu ormai ma si dai cazzo devi far rubare si vede che è una cosa fatta a dodici anni però aspetto che rubi Kameasura fra la mia fidanzata io ero a tanto così ragazzi ero a tanto così ti giuro a tanto così mi ha fermato la mia fidanzata da affare? filomena mi ha fermato ma da affare? dal tatuarmi Cici di Kameasura addosso ma tu l'hai visto? il pesce d'aprile Toriyama ha confermato che gode del figlio di Gohan che gode del figlio di Gohan e Kiki l'ho veduto l'ho veduto quindi hanno canonizzato Kameasura fra l'altro mi hanno mandato il cofanetto di Number 5 bellissimo wow frati Taiyo Matsumoto l'hai visto? puoi vedere? le cose che sono in questa stanza io so tutto vorrei anche vedere un caro saluto l'ho visto in fumetteria l'hai visto prima? un caro saluto e ringraziamento agli amici di J-Pop che mi hanno mandato il cofanetto di Number 5 di Taiyo Matsumoto bellissimo c'è non conosco comunque l'ho visto ma non era possibile sfogliarlo bello incredibilmente ma on ma on ma che stia poi si fa si fa le le squadrature a mano perché tutte irregolari le linee si le vignette tutte a mano e avevo notato questa cosa ma poi è pazzo proprio sembra neanche un manga ma sembra una cosa francese a tratti un po' argentino proprio un fumetto del mondo ora devo sparare sai che sembra sembra un po' mebius si 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 c'è molto arzak qua sono anche le pagine a colori tipo quelle cose che pubblicavano pure sui l'altro storie si tipo su l'ethernauta magari le storie un po' mebiusane questo sa pure molto di Mesopotamia di di Messico di influenze culturali veramente da tutto il mondo ripeto sa di mondo proprio come fumetto non so se lo sto prendendo dal lato giusto il poster credo di si ma mi sa che è incollato eh davanti davanti e dietro ce ne sono due anche dall'altra parte hai già ricomprato Pum Pum lo comprai e lo strappai un'altra volta ma sono nomi di storia o ne lo racconto eh credo che siano in realtà tutte collegate no non sono collegate non lo racconto univoco e ricorda un po' pure sai che cosa dio asanissimasa di igort non l'hai mai letto? no conosco igort ma non in verità quello che dici tu un po' della historietas ricorda c'è qualcosa che ricorda pure zaffino brava winter world brava infatti è quello che mi mi da da più quel vibe là è veramente un fumetto incredibile particolare particolare zaffino sai che sembra breccia albert breccia è lì che breccia lì che breccia beh in ogni caso è bello bisogna anche reggere però quella storia non ricordo se il titolo è esatto tipo l'uomo delle stelle capito quale dici loro sono pirati e devono trovare i tesori dello spazio tirati nello spazio di harlock harlock sì 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 però avevano un vascello che viene vascello classico non una nave proprio tipo disney sì vascello che va in cielo tipo il pianeta del tesoro esatto i fumetti però rosittando vabbè figurati le idee sono nell'aria la musica è nell'aria la musica è nell'aria esatto esatto sembra veramente intrigante sono sempre queste pubblicità stranine tipo time che diventa team in questo caso la rivista ma ma un fumetto proprio sperimentale sembra veramente pazzesco questo non è tanto lontano del tempo è comunque del 2000 2 2002 tagliamo al suono anche se originalmente erano divisi ah questo è proprio star wars poi sono i pre quelli star wars quando qua e gone va a parlare con il concilio dei jedi degli anelli con la riunione per decidere chi deve andare a gettare l'anello eh però queste vibes fantascientifiche chiaramente ti portano subito verso star wars follia ritagli i personaggi divertiti cioè è strano lo sfogli e pensi è proprio strano ma bellissima questa illustrazione eh sono tipo 4 per volume ma quella dentro è fighissima mi cadi questi volumi da maneggiare dove stanno comunque è tosh ok fanno sempre questo fanno sempre caciare mettino uno da volta eh forse è meglio vediamo un po' questo è il primo vediamo questo mi c'è poi ultimamente se jpop sta facendo po' pareti non ci entra male io santo come pure noi no non ne varia non ne varia non ne varia ok ok grazie jpop per avermi mandato questo cofanetto c'è gente che ha già commentato lamentandosi del fatto che non è uscito adesso vediamo un po' oh ma tutto bene ci avete fatto best email per il primo episodio e ci fate best email per l'ultimo leggiamo i commenti voglio ci lasciami risate ma perché non esce il nuovo episodio si ma l'87 ma non si può avvertire su congelol che esce mappa per appa una domanda vogliamo leggere dal contrario comunque sono proprio cani a livello di comunicazione non è così immediato pensare al cambio dell'ora non è normale non farei un comunicato ufficiale manco per sbaglio effettivamente crea molto confusione tra gli utenti no ma fra l'altro questa è la beta ma se vado su crunch roll normale ragazzi c'è scritto ancora 9 e 45 pm ma poi esce l'episodio qua non è spoiler ma dove diavola il nuovo episodio tutto bene ma quando esce sono arrivato alla conclusione che al momento che è cambiato l'orario di settimana scorsa l'episodio uscirà un'ora dopo vabbè siamo tutti in una sezione commenti perché stiamo sbielando per l'ultimo episodio vabbè solite cose 3 aprile niente episodio è questo oh ma tutto bene questo mi ha fatto mucca rocca oh ma tutto bene sofia poi ci avete fatto bestemmiare per il primo episodio e non ci fate bestemmiare per l'ultimo pure è bellissimo ma angelo se tu non fossi fidanzato io ti farei fidanzare con isabel perché ma perché secondo me tu mi faresti fidanzare si io ti farei fidanzare con isabel ma le scrivo in chat scusa ma tu ti fidanzeresti con angelo masone è pazzo è pazzo vediamo che rispondi hai scuso vediamo eh picc picc capiamo vediamo ciao caverna vediamo mi dispiace già sono impegnata quindi mannaggia è già impegnata anche io vabbè vabbè non si può fare vabbè non si può fare ma ti dispiace un po' che lei sia fidanzata no mi piace quello che sto scrivendo in chat la domanda è la posta al condizionale avrebbe dovuto rispondere allora andateglielo a chiedere ti fidanzeresti a prescindere da tutto a prescindere dobbiamo dire su si è ciao a